Potevo battere... si può dire chiunque, no? Non è necessario essere visibile a tutti i costi. Le persone decidono se gli piace o non gli piace. Io poi ero molto irascibile. Noi eravamo dei fenomeni. Io ero insopportabile, insopportabile. L'unica volta che ho giocato con Adriano è stato al buon figlio e fu l'ultima. Una vita praticamente come marito e moglie. Infatti mi chiamava la valigia, tu sei come la valigia. Abbiamo avuto anche qualche punto di vista diverso. Non si parlavano. Nello spogliatoio, i due si spogliavano là e i due si spogliavano là. Nicola trattava con i principi, con i re. Nicola è Nicola, non ha mai avuto una parola gentile a nostri guardi. Mi ha mandato a quel paese di brutto. Io ho capito subito che Sveli venava. Non mi va tutte le sere da andare da amico tuo a fare le cene. Non è che io ho detto non vengo là, me ne vado al night. Non abbiamo mai litigato noi. L'abbiamo litigato un sacco di volte anche in campo. Questi altri erano magari più scavoloni. Veder la vita in maniera diversa, tutto qui. Pranzo insieme, cena insieme, senza rivolgersi alla parola. Eravamo ben assortiti. Non è che con Adriano ho litigato tante di quelle volte. Ma c'era anche stima, come giocatori, ma anche come persone. Perché al di là delle differenze caratteriali, noi eravamo una squadra. Eravamo ben assortiti.